Io faccio parte della SELC e noi stiamo ripristinando le dune che sono state erose dalle mareggiate e spostando piccole quantità di sabbia portandole vicino alla parte delle dune rimaste. Dopodiché, una volta che le dune si sono assestate, noi pianteremo 3-4 migliaia di piante per ripristinare l'habitat. Per me le dune è un'opportunità per noi della SELC di fare un lavoro un po' diverso dal solito e inoltre è un ottimo lavoro per ripristinare l'habitat naturale delle coste dell'Adriatico.